Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 14 luglio. Nella corrente settimana si è avuto un assestamento delle quotazioni sul mercato interno oramai giunte a 8,50 euro, pari a un più 81,52% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Vi è una prudente fiducia per la campagna in corso. A metà luglio siamo al primo ingrossamento delle drupe e i carichi di olive si presentano quelli di una media annata. L'olio di oliva raffinato in testa. In 15 giorni è passato da 5,85 euro a 6,30 euro, un incremento di 45 centesimi chilo. L'olio di sansa di oliva raffinato ha avuto un incremento di 7 centesimi chilo. Il lampante base 3 15 giorni fa valeva 5,45 euro, oggi vale 5,70 euro, un incremento di 25 centesimi chilo. Mentre il lampante base 5 un aumento di 10 centesimi chilo. Mercati esteri Le quotazioni di questa settimana sono ancora in aumento con limitate contrattazioni. Portogallo Portogallo 8 euro chilo Spagna e Grecia 7,90 euro Marocco 7,30 euro Tunisia 7,20 euro Algeria Turchia Egitto 6,50 euro Chilo Nel grafico Nel grafico, la visione percentuale degli aumenti medi settimanali dei mercati esteri. Al 30 giugno, più 5,40%, al 7 luglio, più 7,81%, al 14 luglio, più 8%. Vi ringrazio per la consueta attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia. 旋za